il cambio estraibile è una prerogativa della nostra moto di serie che fu realizzato sulla moto di serie anche per avere un vantaggio nelle competizioni questo vantaggio purtroppo ci è stato progressivamente cancellato e ci adeguiamo insomma sicuramente il fatto di non poter sostituire il cambio o meglio di non poter adattare il cambio in funzione delle piste e di essere limitati anche nella sostituzione del cambio in caso di avaria è qualcosa che ci come dire che annulla un vantaggio che noi avevamo che ci siamo guadagnati realizzando la moto di serie fatta in certo modo è così